Ciao a tutti, ho pubblicato ieri sera un video sull'audizione di un giornalista ucraino al Parlamento Europeo, che vi consiglio caldamente di guardare se avete un interesse ben che minimo su quello che succede in Ucraina. Volevo solo dirvi un attimo qual è il contesto. In pratica, da quanto ho capito prima di questa audizione, questo giornalista ha mostrato ai nostri europarlamentari un documentario sul Maidan e in particolare sui cecchini del Maidan. Questa è una storia di cui probabilmente non avete sentito parlare, però non è una cospirazione, è stata anche confermata da giornalisti della BBC, che in pratica c'erano dei cecchini che sparavano sia sui manifestanti sia sulle forze dell'ordine, ovviamente con l'intenzione di provocare un'escalation, come si dice in italiano, un crescere del conflitto, di portarlo a un livello più alto. E niente, lui in questa intervista dice cose che secondo me non solo gli europarlamentari, ma nemmeno voi non avete mai sentito e non sospettate minimamente. Per questo ne consiglio caldamente la visione, ripeto, questo è un giornalista ucraino dell'Ucraina occidentale, quindi non dove c'è la guerra, non è assolutamente uno dei ribelli, è stato in prigione per più di un anno per non aver voluto combattere nella guerra. Lui ha dichiarato pubblicamente, caro Presidente, io non combatterò, mettimi pure in prigione, ma io non combatterò contro i miei fratelli. E per questo è stato in prigione e anche l'Unione Europea è intervenuta, ha chiesto la sua liberazione e finalmente l'anno scorso è stato liberato. Va bene, andate a cercare questo video, vi metto il link qui e buona visione. Ciao ciao!